buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog max allora io adesso ho già fatto le lavatrici ho fatto pace con la lavatrice ho fatto due lavatrici e adesso sto aspettando che finisce l'ultima per stenderla già ho messo il video di oggi perché come sapete un video al giorno quindi ogni giorno devo caricare il video e di solito lo faccio sempre la mattina e la sera lo monto e la mattina lo carico nella mia casetta ci sono tante cose nuove guardate tante cosine nuove nuove bellissime che un po' sono stati dei regali di compleanno e vedrete il video con tutti i miei regali di compleanno e un po' sono degli acquisti che ho fatto io nuove cose bellissime che ho comprato e anche di quello vi farò un video vi farò vedere tutte le cose adesso cucino qualcosa che tra un po' torna max e dobbiamo pappare vorrei fare anche il video home tour perché ci sono tante cose bellissime nuove nella casa e invece quello room tour della camera da letto già l'ho fatto infatti proprio ieri l'ho caricato quindi se andate nel canale già lo vedete adesso da già lo trovate quello della mia camera da letto bellissima super shabby chic mi sembra sai quel coso love bugs dobbiamo mettere le foto qua dentro dentro a quel coso le vogliamo mettere queste qua guarda che ho trovato un raguomo troppo bello nella Spagna è troppo bello poi ho fatto i video con tutte le cose che ho comprato tanti tanti anni fa 2004-2012 anni fa mamma mia come se è bello con questa camicia è troppo carina stai bene non mi fottere guarda che belle queste foto guarda io sembra la sirenetta la scelta prima che belle mamma mia io sembra la sirenetta e tu con questi occhiali la mosca guarda qua tu eri bellissimo mamma mia eri troppo bello eri guarda qua come eri bello mamma mia che freschezza guardate guardate voi lo vedete così ma quella è troppo bella e che fisica guarda io con le treccine queste treccine troppo belle che praticamente le teni tipo un giorno io sempre a mangiare diciamo che ero molto contento sì eri proprio contentissima guarda io come come è festivo come adesso guarda qua non ce la faccio qua stavi bene qua ti piace come sto stavi bene stavo carino con le treccine sempre gelato qua che è sto gelato fai vedere gira un po' questa è la banana split che buona con tutta la banana con tutte le fragole e gelato guarda io come ero carina ho una pelle più giovane si vedeva e guarda sto costume sempre i miei costumi eccentrici tutte paillettes bello ah questo vestito rosso me lo ricordo ancora bello questo vestito io ero bionda ah questa questa foto ecco è troppo carina questa la mettiamo mi piace no a me no si è bella questa eppure questa quando è come sono carina sono una bion quanti anni avevo qua tipo 18 anni ero piccolina c'era manca una una l'abbiamo presa troppo belle queste foto praticamente sono quelle che abbiamo fatto agli ore di mar in uno dei nostri primi viaggi eh guarda che bella questa paella troppo bella e queste queste sono troppo belle queste due foto guarda tu qua stai troppo bene mi piace troppo come stai dai decidiamo quali dobbiamo mettere qua dentro allora qua mettiamoci la più bella qua al centro ma no queste non ci vanno queste ne puoi mettere solo due perché ah il formale questa qua sì questa eh no è storta deve essere una così questa puoi mettere basta questa ma storta no non possiamo metterla così allora questa per me c'è una cammella sono bella no la cammella no questa no questa no dobbiamo mettere quelle dove siamo insieme io e ti guarda e guarda guarda ti faccio vedere voi dobbiamo effettare la di prima che abbiamo visto ma no ma è questa no a me non mi piace no no ti sei brutta oh devo mettere quella là che ecco questa questa è carina però tu stai un poco triste allora quale vogliamo mettere no gira e gira non ci sta una poca no sì questa è bella e non ci va sta storia sì verticale è qua guarda questa qua ci va bene è carina no non mi piace perché vediamo ma non ti piace è così bella e quale e lui questo no eh no è lui che vuoi è brutta questo no 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 è brutta eh ceci sono tutte brutte tu sei brutta questa la voglio no quindi dobbiamo mettere qui star con questo qua che tu facevi il mostro facevi pure tu risale guarda che ricordi ste foto troppo belle eh tu qua stavi incazzato guai ho qua la sirenetta sembra tu che ho gelato è finito ecco qua che bello abbiamo scelto tutte le foto più belle chi belle e poi questa qua la devi portare Max è vero se la hai tu a casa tua poi la porti e la mettiamo qua anche se lo dobbiamo fare ingrandire vedi perché tipo queste due sono piccole e pure questa si devono fare un po' più grandi perché non vanno proprio bene che bella le nostre foto che ricordi poi se volete vi facciamo un altro video perché noi teniamo tante foto proprio stampate perché ovviamente i nostri tempi pure le lettere io ci ho conservate pure tante letterine se volete vi facciamo un video poi le facciamo vedere tutte della nostra storia d'amore di quando ci siamo conosciuti tante tante tanti viaggi avevo fatto e quando mi hai incastrato io ti ho incastrato e chi sei Roger Rabbit guarda guarda come è bello come è carina appena me l'hai vista ma pure ora sei carina ora è in età ora è in età ora è vecchio abbiamo fatto appena fatto il video kiss challenge è bello è stato bellissimo se volete vedere il video metteteci in tanti like a questo vlog se no lo butto butto il video non lo panico si io ho baciato una non lo posso dire non lo puoi dire le cose che hai baciato è stato schifosissimo ma anche un po' porno un po' porno un po' porno questo è facile vale porno si con il mio tortino bomba come sapete pieno di proteine pre-workout tutte le ricette sapete che le faccio tutte sul mio secondo canale trovate tutti i video anche di questo tortino buone adesso si scioglie tutta la cioccolata più più caffettino e un altro adesso questo altro tortino lo faccio già lo metto qua dentro e lo preparo già per stasera faccio sempre due che sono a porcella uno per la merenda e uno per la sera pre-nanna quindi dopo cena così già ce l'ho fatto stasera yeee mangio tipo adesso sto mangiando tipo sei volte al giorno quindi ho aumentato ancora di più le calorie comunque qua troppo belle guardate qua come sono belle queste nespoline che me le ha date mia mamma sono troppo belle e sono tutte smangiucchiate marroncine perché sono proprio naturali e che c'è proprio un piccolo alberello e mi avevamo la data detto le vuoi ho detto sì io le adoro sono proprio le primizie e infatti dopo mi mangio pure qualcuna di queste qua super profumate bellissime ci metto anche queste qua le mandorle pelate una pioggia di mandorle pelate queste sono troppo buone e costano anche poco sono già fatte tutte a lamelle sono buonissime queste qua le compro a Lidl infatti proprio qualche giorno fa abbiamo caricato sul secondo canale nel video con tutti i prodotti che abbiamo comprato la nostra spesa sul mercato Lidl tra cui anche queste qua sono buonissime e prende sapore poi le mandorle fanno tanto tanto bene ragazze lo sapete sono tipo una spezza fame e evitano gli attacchi di fame poi sono buone proprio anche per la pelle per i capelli sono ottime sono anche queste molto molto proteiche le mandorle tutta la frutta secca ragazze la conoscete questa canzone? è troppo bella mi piace a stare se la sentivano cantata da te non capivano però l'hanno riconosciuto tre ragazze secondo me comunque siamo qua in palestra abbiamo già fatto Pilates siamo tutte distese ci siamo allungate bellissimo Pilates e poi oggi la nostra struttrice di Pilates stava proprio scatenata ci ha ucciso ci ha fatto fare assai addominale è vero? perché il Pilates non si direbbe ma serve tantissimo per l'addome è frutta ma cretino sto facendo una foto dando innavitami in un discorso serio Pilates ragazzi addominale se avete anche adesso ci andiamo a allenare facciamo la nostra scheda leg day che avete visto il video proprio oggi è andato online il video dell'allenamento quindi voi lo trovate online andate a vedere il video sta Nancy con i suoi glutei tutti i tondi tondi a palloncini per fare i glutei a palloncini come Nancy andate a vedere vi colgate i palloncini noi ci andiamo a allenare e poi ci aspetto una bella scenetta stasera chissà cos'è chissà cos'è ma chissà cosa sarà una cosa che non mangiamo mai quindi ci alleniamo pensando al cibo ci dà la forza evviva per allenarci eccolo qua sushi e vai sono affamata è vero Nancy troppo buono guarda com'è bello bellissimo evviva e noi abbiamo fatto anche il video del sushi vero Pachito mi piace mi piace andate a vedere andate a vedere il video dove sul nostro secondo canale perché abbiamo caricato proprio in settimana il video del sushi fatto in casa vero Pachito allora guarda Pachito cademi guardare guarda è andato a bottino bravo allora andate a vedere il video ragazzi vi lascio il video del sushi fatto da Pachito che è bellissimo proprio così sul nostro secondo canale ciao 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 e per te la voce vai no che non posso dire un regolino come? le penso Ren ma che bella nuova ma che è passata giusta certo ciao ciao no no non metti no non metti un saluto a tutte le tue fan e ma ciao e riva ciao 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 ecco qua abbiamo trovato la foto eccola qua la mettiamo là dove mancava eccola com'è bella adesso è proprio completo perché questa qua io mi ricordo la facciamo sempre là in Spagna a Gliore del Mare è vero? sì io teniamo questo vestitino rosso sembrava una spagnola tipo un bicchiere di vino la sangria la sangria che erano carini questo locale spagnolo ecco com'è bella allora è tutto completo questa questa è freschissima con la paella la paella è fresca questa con i gelati questa con la schiaccia ma non mi vedi che so bella è figa questa è una figa bella madonna che si fa mi sono fissata questa canzone grazie a Maria De Filippi perché la metteva sempre uomini e donne non so se vi ricordate comunque sono ero stato petuso sono le 3-10 le notte max già dorme io sono a computer a lavorare sto offrendo sto offrendo di video ultimi ritocchini per il video poi lo metto a caricare e poi finalmente vado a dormire adesso sto facendo pure il vlog vi faccio vedere ecco qua il vlog perché ovviamente i mesi concludono sempre le cose di me giornate controllo vedo un po' tutti i post mi pubblico qualche posto nuovo mi rispondo per i vostri commenti pubblico le cose questo è il mio vlog www.valitaloccia.com dove pubblico tanti rimedi naturali ricette di bellezza recensioni di prodotti quindi mi raccomando seguitemi anche sul vlog e adesso finisco finisco sto video perché se no veramente vado a dormire alle serenze sono già le 3 qua c'è la mia tisanina evviva com'è bella questa tazza è vero anche questa qua ve la farò vedere e ve ne parlerò nel video haul che ho fatto di tutte le ultime cose che ho comprato gli ultimi acquisti e oggi poi ho girato anche il video dei miei regali di Natale con mia sorella sono felicissima che vedete penso domenica spero mi raccomando mettetemi un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video anche se non vi è piaciuto mettetevi lo stesso tanto non mi costa nulla è gratis un pollice in su vi mando un bacio grande ciao buonanotte Oh, it's mad. Come here one me. Come here one me. Come here one me.